Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Se lo state visualizzando è perché il nome del filato che avete letto o comunque le sue caratteristiche hanno catturato la vostra attenzione e avete fatto bene. Parliamo infatti in questo video di un filato che cambierà sicuramente il vostro punto di vista perché parliamo di un filato 100% cotone, 100% sostenibile e 100% made in Italy. Analizziamo nel dettaglio il Drake. Parliamo di un gomitolo composto per il 100% da cotone, gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di circa 125 metri per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 3-4 oppure dei ferri 4-5. Veniamo ai consigli per il lavaggio il post lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 40 gradi. Sconsigliamo di riporla poi successivamente nell'asciugatrice ma piuttosto di riporla lontana da fonti di calore eccessive in una posizione piana e potete stirarla ad una temperatura che non superi i 200 gradi. Parliamo di un filato dalle mille sfaccettature che potrete utilizzare in diverse versioni e magari in seguito potremo anche analizzare insieme quali ma è un filato dalle molteplici possibilità soprattutto per la vasta gamma di colori che presenta e a tal proposito guardiamo subito quelli attualmente disponibili. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!